Anche la Proloco partecipa all'edizione della Festa dell'Uva e parliamo con il Presidente. Sì, certamente, anche noi abbiamo un bel gruppo di ragazzi volontari e siamo presenti anche noi con grande spirito e entusiasmo a partecipare all'organizzazione di questa bellissima festa. Voglio ricordare la serata di domani sera che consiste appunto nelle specialità sulla polenta, polenta gialla, polenta bianca e la taragna con contorni di carne del tipo selvatico, cervo o tapelucco, abbiamo del gorgonzola, insomma contorni, abbiamo una bella offerta gastronomica. Grazie.